no è più facile in salita che in discesa comunque perché in salita arrivi la la gira e vai su farla scendere un pochino più più ostiosa ma chiuderla lì non è da tutti eh non è da tutti se sbagli qualcosa passi fuori dritto se c'era la staccionata la facevo anch'io ma così non non rischio perché so già che vengo giù di qua ma ammazzo e arriva il sergio adesso eh ah dici va andar su e rifarla di là a salire di là o a scendere di là Renzo deve saltare la moto non te dai Renzo arriva Renzo arriva Renzo c'è il freno di lì dove ce l'hanno dove dai 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 oh fai girare il culo fai girare il culo bravo bravo ali bel preciso che minder che c'hai qui oh vediamo che vanno di là sì Andrea lasciamo lì Andrea lo abbandoniamo no Andrea ma facciamo con Andrea eh sì va giù nel torrente se lo lascia andare eh Andrea l'altro vanno di là per forza gli ha portato la moto a tre quarti eh sì era già fuori ormai non ti ha chiudo e andrà qua in alto vieni qua 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 vai che va ları oi lda ok